E qui possiamo citare un'intera serie di progetti, poniamo ad esempio la realizzazione di infrastrutture turistiche e più precisamente la costruzione di nuovi impianti sciistici. Abbiamo già avuto alcuni casi in Tirolo in cui ci si è interrogati sulla modalità di questi progetti e anche la luce degli obiettivi fissati dalla Convenzione delle Alpi. Ci si è detti che forse il progetto originario non andava bene e che era opportuno cercare magari una soluzione alternativa. Noi però ci sforziamo in tutti i modi di presentare la Convenzione delle Alpi non come uno strumento per impedire qualche cosa, piuttosto come uno strumento che ci consente di realizzare qualche cosa, di arrivare a decisioni politiche positive. Ciò appare chiaro nel settore del turismo sostenibile, ad esempio dove si tratta di indicare nuovi approcci e nuove possibilità per realizzare in futuro uno sfruttamento turistico sostenibile volto ad ottenere risultati positivi nell'ultimo settore del turismo, un progetto originariamente austriaco che ora si sta estendendo all'Italia. Poi ci sono altri vari settori. La Convenzione delle Alpi svolge un ruolo importante anche nel settore della pianificazione territoriale, ad esempio in tema di normativa e in quello delle seconde case. Su questo punto esiste un'ottima legislazione anche in Alto Adige con una disciplina molto valida e rigorosa riguardo alla costruzione di seconde case. Esiste dunque una lunga serie di iniziative realizzate a livello euro-regionale in attuazione della Convenzione delle Alpi.